L'allarme lanciato ormai da qualche giorno dalla CGL di Mussomeli in merito alle inopportune scelte operate dal governo regionale dentro la riforma sanitaria ha determinato un profondo malumore nella cittadinanza di Mussomeli e preoccupazione al personale medico e paramedico dello stesso storico presidio sanitario che tra l'altro gode di una vasta utenza proveniente anche dai paesi vicini. Lo scrive in un comunicato la segreteria confederale provinciale della CGL di Caltanissetta congiuntamente alla categoria FP CGL di Caltanissetta i quali hanno chiesto e ottenuto un vertice urgente presso la prefettura di Caltanissetta che ha indetto un tavolo con i sindaci del Vallone, il direttore dell'Asp e i sindacati per una verifica immediata operata in Sicilia e nello specifico gli effetti devastanti che la riforma rischia di avere in piccoli centri ma strategici. Tutto ciò appare ancora più grave in considerazione di scelte discriminatorie operata a distanza di pochi chilometri con analoghe caratteristiche geografiche delle province interessate, spiegano ancora i sindacati. La CGL è fermamente convinta che bisogna ridurre i costi della sanità pubblica, cioè gli sprechi e i doppioni, il resto è mortificazione per i cittadini. E' utile infatti ricordare che il comune di Mussomeli rientra nella classificazione di una zona montana e che presso il predetto punto nascita sono stati effettuati 204 parti nel 2014 e 165 parti fino a ottobre 2015, prestazioni che potrebbero verosimilmente aumentare per effetto della chiusura del punto nascita di Santo Stefano di Quisquinia. CGL ed FP CGL concludono. Ignazio Giudice e Giovanna Caruso sostengono le iniziative civili di lotta avviate a Mussomeli e sposteranno l'attenzione ai massimi livelli istituzionali per affrontare la questione con l'obiettivo di mantenere aperto il punto nascita di Mussomeli.